Ciao ragazzi, benvenuto a un nuovo video di The Mammoth Reflex. Oggi abbiamo in prova una nuova macchina fotografica, la Sony Alpha 7R II. Voi direte, non è la nuova Sony, no, è la precedente. Questa è uscita a metà del 2015. Prossimamente avremo anche la possibilità di provare la Mark III, ma nel frattempo abbiamo deciso di provare la II, così da vederne meglio le differenze nel prossimo video. Già sulla carta questa piccola Sony, piccola magari per le dimensioni, non certo per la potenzialità, dicevo già sulla carta prometteva assolutamente bene perché si presenta con un sensore full frame da oltre 42 megapixel stabilizzato sui 5 assi, promette un autofocus notevole e devo dire che tutte le aspettative sono state rispettate e ci ha ripagato con delle foto magnifiche. Come tutte le prove che facciamo, non sono prove tecniche, ma sono prove che vengono fatte sul campo, nei nostri report, nelle mostre, in servizi fotografici, quindi sono prove utilizzando la macchina effettivamente nel lavoro. Questa Sony si è dimostrata, devo dire, fantastica. Le foto, già solo come JPEG, hanno una gamma dinamica incredibile, hanno un dettaglio assoluto. Andandole anche a ritagliare per ottenere specifiche inquadrature, rimangono davvero definite. I file RAW poi sono assolutamente lavorabili, con un dettaglio ottimo, certo sono un pochettino pesanti perché abbiamo 80-90 MB di file per ogni RAW, quindi serve magari un computer un attimino potente, però il dettaglio è assoluto. Questa macchina ci ha stupito in positivo perché appunto con una dimensione così piccola riesce a trovare una qualità straordinaria delle foto e dei video. Sì, perché abbiamo realizzato anche dei video, video interviste nei giorni scorsi che sono già state pubblicate sul sito e su Facebook, il dettaglio e la qualità sono sbalorditive pur non filmando in 4K. Ricordo che riesce a fiammare in 4K senza problemi, ma noi abbiamo fatto in full HD e il risultato è ugualmente ottimo. L'obiettivo che abbiamo utilizzato provando questa macchina fotografica è un obiettivo, un'ottica fissa 55mm f1.8, un obiettivo ZEIS, Sony ZEIS. La qualità è assoluta, la luminosità è incredibile e l'autofocus funziona perfettamente. È sempre morbido e veloce, non è a scatti, sia con l'autofocus singolo che continuo che a tracciamento si comporta sempre bene seguendo il soggetto in maniera precisa, in maniera come dicevo anche morbida in modo da non avere uno scatto tra una foto e l'altra oppure all'interno dello stesso mirino. Abbiamo provato anche la macchina alla mostra di McCurry a Bologna, in una situazione in cui le foto erano illuminate ma il contesto era molto oscuro e il rumore non è praticamente percepibile. Con un sensore così denso di pixel le foto rimangono sempre belle e nitide anche in situazioni di scarsissima luminosità. La qualità costruttiva è assoluta, la macchina è compatta, robusta e dà una sensazione di grande robustezza in mano se non fosse per il piccolo sportellino della batteria dietro che sembra un pochino esile rispetto al resto ma sono davvero qui squiglie. Difetti di questa macchina? Ma potremmo parlare dell'utilizzo della batteria. Ecco, la batteria che è alloggiata qui sotto ha una durata non proprio grandiosa per questo tipo di macchina perché appunto è totalmente digitale poi se lavoriamo anche con un tracciamento continuo dell'autofocus si scarica piuttosto in fretta. Ma un problema che si risolve mettendosene in tasca un paio già cariche e si possono andare a sostituire in un attimo. Altra piccola pecca magari per questo tipo di macchina è il suo menu. Menù che non è proprio intuitivo, occorre impratichirsi un pochino occorre un pochino di tempo per adattarsi poi la cosa sorprendente che è totalmente personalizzabile quindi una volta entrati nell'impostazione di Sony possiamo andare a cambiare un sacco di cose e averle sempre a portata di vita. Vediamo un attimo da vicino questa Sony Alpha 7 R2 in mano risulta davvero compatta, ben costruita, solida si ha la sensazione di avere in mano tecnologia ma robusta. La parte superiore ospita questa rotellina con cui andare a scegliere e la modalità di scatto se è manuale, se è in priorità dei tempi, di apertura, programma oppure qua sopra abbiamo il video, la panoramica eccetera. Qui abbiamo la compensazione dell'esposizione il tasto di scatto naturalmente qua davanti mentre quello della registrazione dei video è qui di fianco, laterale quindi non è lo stesso per scattare le foto e per scattare i video. Abbiamo una rotella posteriore e una anteriore che ci regoleranno i tempi EF e la parte posteriore, andiamola accendere un attimino ospita questo display basculante in questo modo ricordo che non è touch come detto il menu non è molto intuitivo ma è ricco di impostazioni che una volta trovate si potranno andare a richiamare negli appositi tasti e grazie anche a questo tasto qui sopra possiamo andare a trasformare un'ottica fissa come quella montata sopra adesso avendo la possibilità di zoomare un pochettino questo solo in casi estremi, mi raccomando, non da usare come standard. Per concludere devo dire che è una macchina fantastica una vera bomba che consiglierei sicuramente ottima per la street photography perché è molto compatta ottima per un utilizzo professionale in studio ottima per qualsiasi situazione secondo me è davvero una macchina vincente chiudiamo qui questo video con le nostre impressioni sull'ottima Sony Alpha 7 R2 e vi ricordo di seguire il nostro sito, il nostro Facebook per rimanere sempre aggiornati sul mondo della fotografia iscrivetevi magari anche alla newsletter settimanale che vi aggiorna con tutte le cose che sono sparse per l'Italia corsi, mostre, eccetera grazie per l'attenzione, ci vediamo prossimamente in un nuovo video da Frank è tutto, ciao!